Allora, ci sono Cracco e Massari, chef di alto livello in questa iniziativa che riguarda però soprattutto le scuole. Lo sentiamo dalla voce di Arianna Censi, vice sindaco della città metropolitana, perché il 2 luglio si terrà appunto questa particolare cena di gala. I CS International School insieme alla città metropolitana, alla regione Lombardia, alla collaborazione tra scuole pubbliche e private lancia questa grande cena di gala, una cena di gala particolare perché ognuno starà a casa sua e verranno consegnati i pasti confezionati, pensati e cucinati da Cracco e i dolci pensati e cucinati da Deborah e Gigno Massari. E ognuno di noi potrà, se vorrà, contribuire in questa maniera ad aumentare le risorse tecnologiche, materiali a servizio delle scuole pubbliche della città metropolitana di Milano. Mi sembra una bella idea che partendo dai testi di Calvino delle città invisibili chieda a tutti noi di immaginare come vogliamo che sia la scuola del futuro. Proviamoci!